davvero un piacere, un onore avervi qua in studio con noi, la coppia vincitrice di questa settimana applauso Irina e Sergio, loro hanno ancora la speranza di proseguire questo viaggio per aspire al viaggio crocele di MSC Crocele, grazie davvero a tutti, ringrazio Valeria e Roberta ha il premio, benissimo, lo consegniamo a questo punto, vai pure a Vittorio e a Marina, certo fino all'ultimo e costantemente con i nomi non ci siamo, ringraziamo davvero la famiglia Comerci per averci ospitato qui al Blue Paradise Parcheria, provincia di Vibo Varenza e noi stiamo insieme in onda se casomai lei volesse essere qui in Argentina, grazie e poi ringraziamo davvero Mariela Scalza, dottore Clemenzi, il centro storico di Roberto, l'angolo della sposa, soprattutto voi meraviglioso pubblico che avete la pazienza e magari il piacere anche di rimanere con noi durante la settimana per questa breve pausa giornalina di 30 minuti di giochi, divertimento e qualche lignata, continuiamo a vedere dopo quando finiamo la pitata, ci vediamo lunedì prossimo, puntuali, stasera alla replicona, ciao a tutti, grazie allo studio, grazie amici, ciao a tutti e un video, ciao. Grazie a tutti